Buonanotte, prima di tutto cancellare questa sconfitta perché è una sconfitta che l'abbiamo messo noi da parte dell'Appresario. Non possiamo dire che ci siamo sorpresi. Alla fine, sull'inizio fino al nostro gol di nuovo, come la partita scorsa, c'è una dominanza e una padronanza del campo. Ci sono tantissime situazioni dove a favore stiamo controllando la partita. Capita un episodio dell'Appresario con due gol, non riusciamo a chiuderli, il primo su 16 metri e anche l'altro, non riusciamo a chiuderli e poi siamo andati in desvantaggio. Che succede nel secondo tempo? Tu non puoi regalare questi gol. A questi livelli non puoi regalare questi gol. Noi dobbiamo fare riflessione su questi errori commessi, però analizzando in tutto c'è di positivo che la squadra fino all'ultimo all'ottato, che fino all'ultimo minuto con l'azione di Medici, nell'89, ci poteva essere anche il 4-3. La squadra si ha messo a giocare mano a mano a campo aperto e ci ha provato. Abbiamo tanti giovani che sono convinto, non convintissimo, che hanno il potenziale e che dopo la partita di oggi si alzeranno più forte, miglioreranno e noi saremo indietro loro per farli migliorare. Quindi la sconfitta di oggi sarà la lezione di domani. Grazie. 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 a questo livello, ci sono i nostri spettatori. Perché, veramente, questi gols sono stati mesi, dovremmo pensare, fare i risultati di risultato. Per quanto riguarda positivi momenti, la squadra bila fino alla fine, la scuola, la scuola, la scuola, è stato un momento nel 89 minuto quando abbiamo avuto 4-3 è positivo abbiamo una squadra dovremmo poterci poterci i ragazzi e andiamo domani una domanda una domanda è una domanda non è in gioco ma in gioco come è successo questa è la sconfitta è una sconfitta di una settimana difficile di non avere o di fare i conti per avere 20 giocatori in allenamento è stato molto difficile una settimana dove la squadra ha preparato come ha potuto la partita è una sconfitta che se vai a analizzare i momenti noi abbiamo concesso due gol ma direttamente noi l'abbiamo dato all'avversario nel secondo tempo un assist e un penalti quindi stiamo parlando che su quegli errori individuali guarda ci sarà un lavoro a livello mentale i giocatori e altri giocatori avranno la possibilità di giocare però io non posso dire e non me la sento dire guarda è una sconfitta dura perché l'avversario ti ha messo sotto perché tu non sapevi per dove arrivavano loro guarda noi sapevamo le cose di controllare le loro palle lunghe e le seconde palle una squadra che gioca a transizione non le puoi concedere né spazio né dare la possibilità di fare gol quindi dobbiamo cancellare subito la partita di oggi e pensare alla prossima migliorando tutti gli aspetti che oggi non ci hanno concesso la possibilità di vincere ma 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 È stato molto difficile. È stata una buona settimana. Abbiamo quasi non potuto fare 20 futbolisti. Questo è molto importante. Ma siamo preparati. Stare. Ma se noi progettiamo gli esibili, però se noi progettiamo gli esibili, gli esibili gli esibili, poi vediamo, che gli esibili due gol. In questa scuola, noi solo подарiamo gli esibili gli esibili. In questa scuola, gli esibili gli esibili. In questa scuola, gli esibili gli esibili, la psicologia. Ci bisogna lavorare. Ma non posso dire, che questo progettino è molto importante, perché abbiamo capito, perché abbiamo capito, come si è giusto, come si è giusto, che ci sono i giusti. Ci sono i due minuti, ci sono i due minuti, i due minuti. Ma non mi dovuta, non mi dovuta, al questo neudatamente che avrata. Perciano a vedere, vedere, vedere il prossimo, quello che è qui è andato. E lavorare in modo di esibili. Grazie a tutti. Non sono d'accordo con lei, penso che lei avrà visto un'altra partita perché la squadra non si è reso, la squadra è andata avanti, la squadra è stata nel campo appresario, io ricordo 45 minuti dove mi avrò girato dalla porta nostra solo per le palle lunghe dell'appresario e del portiere, quindi sicuramente abbiamo visto una partita molto diversa lei e me, vi ricordo che noi abbiamo messo dei cross tutto il secondo tempo, avendo la possibilità di seconde palle e l'appresario era dentro della loro area, quindi la squadra non si è reso e quello è il lato positivo dei momenti difficili, con pochi giocatori, avendo perso anche i titolari per infortunio la settimana scorsa, i ragazzi hanno dato quello che hanno potuto fino alla fine per ripantare la partita, quindi non sono d'accordo con lei. Io non posso dire che la squadra non si tratta, perché la squadra non si tratta, perché la squadra è stata in 45 minuti quando mi avrò girato alla nostra partita dopo la squadra, i ragazzi stavano, i ragazzi stavano, i ragazzi stavano, i ragazzi stavano in 2 tani, i ragazzi stavano in un'altra partita, i ragazzi stavano in un'altra partita, i ragazzi stavano in un'altra partita, si tratta, i ragazzi stavano in un'altra partita, i ragazzi stavano in un'altra partita, Grazie. Grazie. Vi chiamo Valeria Carpiano.